ciao a tutti ragazzi sono alfi112 e vi do il benvenuto a quest'altro nuovissimo tutorial su come installare la v10 l'ultimo file opzione lasciato da pes unites pes unites è il nuovo team che insieme a pes team rilasciano questo file opzione ovviamente inizio subito con i ringraziamenti per questo ultimo file opzione vorrei ringraziare mirko lobose millas e hai clorine per questo magnifico lavoro all'interno troverete l'ultimo kit del napoli l'ultimo kit dell'inter l'ultimo kit del borussia dortmund e l'ultimo kit del paris saint germain poi comunque nella descrizione del video troverete tutti i contenuti di questa v10 non doveva uscire ma alla fine per la community hanno deciso di farlo uscire per scoprire come installarlo seguitemi allora ragazzi inizio subito col dirvi che per scaricare questo file opzione troverete il link nella descrizione del video ovviamente ci sono due versioni di questo file opzione v10 quello con la mls league e quello con la mx league quindi campionato americano e campionato messicano io come sempre andrò ad installare quella con il campionato americano allora una volta scaricato il file opzione non vi riesce che andare sulla cartella werar schiacciate estrae file e andate su ok una volta terminata questa operazione cliccate all'interno della cartella andate ancora avanti copiate la cartella vpass e andate ad inserirla sulla vostra chiavetta usb ci metterà un po di tempo ovviamente per copiare questa cartella perché abbastanza corposa poi dipende sempre dalla potenza del vostro pc una volta terminata questa lunghissima operazione non vi resta che togliere la chiavetta usb dal vostro pc e andare ad inserirla nella vostra ps5 o ps4 vi ricordo che questo file opzione compatibile anche per il pc poi vi ricordo anche un'altra cosa ragazzi io è vero che scarico la versione mls league però troverete meno file nel tutorial perché perché io vado a togliere la mls league per avere più slot per inserire casomai qualche altro kit personalizzato quindi è questo il motivo non vi spaventate allora ragazzi prima di procedere con l'installazione di questa v10 ricordatevi di aver installato sulla vostra console l'ultimo pacchetto dati il 5.0 adesso ci sono io con la sede davanti adesso mi sposto guardate qua qui ok qua vedete 5.00 ci deve essere scritto il dlc lo scarica in automatico la play quindi nel momento in cui si collega ad internet lo scarica quindi state tranquilli se c'è quella scritta lì perché è aggiornata fatta questa piccola premessa possiamo procedere con l'installazione allora la primissima cosa da fare ragazzi è andare ad eliminare tutte le immagini dei vecchi file opzioni andiamo su impostazioni modifica andiamo su import e esporta andiamo su elimina immagini ovviamente dobbiamo eliminare le immagini di tutte queste categorie mi raccomando tutte le immagini anche quelle che avete inserito voi a mano quindi andiamo facciate come si fa andate qua poi elimina tutte le immagini e andate su ok ok poi andiamo qua elimina tutte le immagini ok quindi questo procedimento per tutte quelle sezioni tutte una volta eliminato tutte le immagini non vi resta che tornare indietro andate indietro indietro salvate tutto poi andate sempre su modifica andate su applica l'ultimo aggiornamento anche se l'avete già fatto rifatelo poi mettete aggiornamento squadre club e aggiornamento squadre nazionale la spunta deve stare su entrambe mi raccomando questa procedura va fatta soltanto all'inizio poi non va fatta più una volta che inseriamo il file opzione non va più fatta mi raccomando una volta terminata questa operazione andate su sovrascrivi sì salvate tutto ok e tornate indietro adesso siamo pronti per installare il file opzione date su impostazioni poi modifica importa esporta facciamo prima import competizione ok selezionate la vostra chiavetta usb poi tasto quadrato e x qui mettiamo sovrascrittura file immagine con nome uguale mettete la spunta mi raccomando e poi su ok ok operazione terminata questa operazione qua della competizione come sapete abbastanza veloce andate su ok poi tornate indietro in modo da salvare tutto una volta effettuata questa operazione andate su impostazioni modifica importa esporta andate su importa squadra selezionate sempre la vostra chiavetta usb tasto quadrato e poi x poi applica dati giocatori e squadra mettete la spunta sovrascrittura file immagine con nome uguale mettete la spunta e andate su ok questa operazione un po più lunga perché sono 500 e passa squadre a me a voi saranno di più perché io come ho detto già in precedenza ho tolto la mls league perché voglio lasciare qualche slot vuoto per inserire qualche altro kit personalizzato quindi se volete anche voi saranno i kit personalizzati casomai potete eliminare qualche squadra della mls league o addirittura tutte vedete decidete voi come quello che volete fare una volta terminata questa lunghissima operazione non vi resta altro che andare indietro indietro e salvare il tutto adesso non rimane che l'ultimo passaggio ragazzi e cioè riordinare la competizione le le competizioni vi ricordo che l'emm s l'emm ls league deve essere impostata a 20 squadre la liga mx a 18 squadre bundesliga 18 squadre la g1 league a 18 squadre io vi farò vedere come fare però poi tutta la procedura per inserire le squadre della bundesliga e della g1 league la troverete nella descrizione di questo video vi ricordo anche che per chi ha installato i vecchi file locuzione non deve fare nulla importa e basta non deve fare assolutamente niente proprio per chi è la prima volta che scarica e fare l'opzione deve eseguire la procedura che troverete nella descrizione del canale allora per sistemare e riordinare le competizioni bisogna andare su modifica struttura competizione andate sul numero di partecipanti e qua mettete bundesliga 18 g1 league 18 e poi mls league 20 invece per sistemare la bundesliga e la g1 league per inserire per le varie squadre basta andare su struttura competizione andate in europa e poi fate tutti i passaggi andate su bundesliga con la x selezionate la squadra che dovete togliere e poi andate diciamo nelle varie sezioni con l1 ed r1 e andate a trovare la squadra che dovete inserire mi raccomando non è difficilissimo ragazzi questi semplici passaggi non ve li faccio vedere tutti vi lascio la guida all'interno della della descrizione del video adesso andiamo a vedere che tutto si è andato per il verso giusto andiamo sul calcio d'inizio vediamo già il nuovo logo dell'inter già in questa schermata tanta roba ragazzi andiamo su x ecco qua i nuovi kit del napoli e dell'inter poi ovviamente sempre sul mio canale youtube per chi volesse installare il kit nuovo del napoli quello giallo basta andare sul sempre sul canale troverte proprio il tutorial su come installare soltanto il kit del napoli rilascia sia la versione quella gialla che la versione questa qua nera tanta roba veramente ragazzi complimenti ancora ai ragazzi che hanno fatto un lavoro stupendo ed ecco qua anche i nuovissimi kit di borussia dortmund e psg tanta tanta roba ragazzi diciamo che per oggi è tutto spero che questo video tutorial vi sia piaciuto mi raccomando tempestatelo di like e condividetelo in massa con i vostri amici mi raccomando vorrei arrivare a 5.000 iscritti su youtube prima della fine di questa stagione pesistica se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sul mio canale twitch iscrivetevi sul mio canale youtube ed attivate la campanellina noi ci troveremo prossimamente per altri nuovi nuovissimi video grazie alla prossima ciao ragazzi